L'indipendenza. Bello questo tema. Chi di voi vuole essere indipendente? Quanti di voi nella propria testa hanno l'obiettivo oggi di essere indipendenti? Cioè, vede, una delle prime regole di quando si impara a PNL è nel concetto di metamodello, quindi le domande metamodello, che sono le domande per rendere specifico quello che le persone hanno nella testa, e se non sapete cosa sono le domande metamodello andatevi a fare il corso dei PNL che trovate su Anaera a quattro spicci. Quindi, la domanda metamodello su voglio essere indipendente è cosa intendi esattamente per indipendenza? Perché... Ragionandoci un attimo, il concetto stesso di indipendenza, e qui vi faccio cadere un mito, perché indipendenza è la base, cioè tutti quanti si fanno la bocca di indipendenza, diventa indipendente di su, diventa indipendente di giù, diventa di qua, il concetto di indipendenza è errato a monte, non solo è errato a monte, ma mi sembra un po' come quello di speranza, cioè è il sacro graal del condizionamento, cioè è quella cosa che nella testa di tutti è stata infilata, perché quando c'è una testa di tutti vuol dire che ve l'ha infilata qualcuno, ce stanno cazzi, cioè quando un gregge pensa nella stessa direzione vuol dire che un pastore ve l'ha infilata in testa. Quindi se tanta gente pensa e vuole diventare indipendente, quindi hanno come obiettivo l'indipendenza, vuol dire che qualcuno ve l'ha infilata in testa. E' come la felicità, tutte quelle cose lì, no? Ora, l'indipendenza. L'indipendenza è, io veramente lo intenderei come il sacro graal appunto del condizionamento umano, nonché della psicologia mentale, cioè questa chimera che tutti ricercano, ma non sanno manco che. Qualcuno ha mai visto il sacro graal? Ora, ditemi voi, qualcuno di voi ha mai visto il sacro graal? Eppure la gente cerca il sacro graal. Ora, se tu non sai come cazzo è fatto il sacro graal, come fai a trovarlo? Magari ce sei passato davanti e non l'hai trovato. Magari era un bicchiere fatto di legno, tu ce l'hai dentro casa, ce sei passato dieci volte davanti, non sai com'è fatto e non lo potrai mai ottenere, non lo potrai mai raggiungere. Ora, che minchia è l'indipendenza? Partiamo da... partiamo da un principio di base. Partiamo da un principio di base. Chi ha fatto il corso di PNL o il mio corso sugli obiettivi gratuito che trovate su Anaera? o è venuto in Egitto tanto tempo fa? Insomma, chiunque abbia fatto, abbia studiato un po' di qualcosa da chiunque, c'è una parte in cui si studia la buona formazione degli obiettivi. Pure se avete fatto dei corsi con i vari guru commerciali, questa roba qui la trovate su qualunque libro, cioè proprio è la terza pagina di PNL, buona formazione degli obiettivi, BFE, buona formazione degli obiettivi. Ora, la buona formazione degli obiettivi sono dei punti, quindi delle cose, dei filtri, attraverso cui il vostro obiettivo deve passare per far sì che sia ben formato, perché se un obiettivo non è ben formato non lo raggiungerei mai, cioè non sai che cazzo vuoi. Per cui è come se tu andassi, cioè vado a mangiare, ecco vai al ristorante, è quello che dici, che vuoi mangiare? Bu, vabbè ho capito, e quindi che vuoi, cioè ho fame. E il cameriere dice, vabbè sì ho capito, c'hai fame, che te devo portare? Bu, cioè devi avere un obiettivo ben formato, tu quando vai al ristorante dici voglio la pizza a quattro stagioni, senza una stagione, con mezza stagione e con i carciofini e così, e quindi dicono ma li vuoi tutti mischiati oppure li vuoi separati? No, li voglio separati, quindi devi essere specifico, ma la crosta la vuoi alta o bassa, la farina la vuoi di struzzo, no, di mais integrale, di mais australiano, insomma tutte quelle cose che adesso vanno di moda. Ora, devi essere specifico, non è che puoi dire dammi una pizza, no, devi essere specifico. Allora mi spiegate perché uno deve essere così specifico quando deve andare a mangiare una pizza e non è specifico per un cazzo quando parla di indipendenza? Spiegatemelo voi, perché non me lo spiego? Perché non mi potete dire voglio essere indipendente? No, perché se io fossi il vostro cameriere dell'indipendenza, vi direi, indipendenza da che? Da che cosa? Da che vuoi essere indipendente? Cioè finanziari? Quello è il minimo. Ma vuoi scommettere che se diventi indipendente finanziariamente c'è almeno altre 10-15 dipendenze e non te ne accorgi neanche? Perché l'indipendenza, uno, non è ben formata, due, soprattutto, ed è una delle cose fondamentali degli obiettivi errati, degli obiettivi errati, è che gli obiettivi devono essere verso, non lontano da. Cioè devono essere verso qualcosa non lontano da quello che mi fa male o che non voglio. Ciò vuol dire che se io ho fame non devo andare a cercare qualcosa che me leva la fame, ma devo andare a cercare una pizza, una frutta, qualcosa. Quindi, non è che io dici oddio, 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 c'ho fame, e quindi mi devo allontanare dalla fame. Dovai? Vai in mezzo a una strada ovunque? No, vai, se passa quello che vende le pannocchie, vai diretto, ah, ecco, fame, pannocchie, vado dal pannocchiaro e me compro la pannocchia. Quindi ho un obiettivo verso il pannocchiaro, non lontano dalla fame. Ora, l'indipendenza è, per assunto proprio, nella parola, è un lontano da. Cioè, indipendenza, ovvero mi devo allontanare dalle dipendenze. Quindi già stiamo parlando di un lontano da. Il che è il modo migliore è per non raggiungerlo mai. Uno, perché non è definito. Due, perché non sai da che cosa li devi allontanare. Tre, non sai quali sono le tue dipendenze. Quattro, non sarai mai indipendente. Ed ecco che questa, avendo queste caratteristiche che stavo analizzando, mi sono reso conto che, mi sono reso conto che l'indipendenza rientra rientra insieme alla speranza tra le, in quel pacchetto di puttanate che ci hanno messo in testa per distrarci. Cioè, per farci correre nella ruota del criceto. Perché l'indipendenza ci fa correre verso il nulla, perché non sappiamo che cosa dobbiamo raggiungere, e con la speranza speriamo di raggiungerla. Cioè, noi vogliamo essere indipendenti e speriamo che un giorno diventeremo. Cosa faremo? Corriamo. Corriamo verso dove? Boh, qualcosa che ci rende indipendenti. Ma non sappiamo manco da che. E non sappiamo neanche verso cosa. Ora, ragionando su questo, ho detto, ma vediamo un po' questa sera. Vediamo un po' questa sera di fare una sorta di lista delle dipendenze. Innanzitutto, identificare le dipendenze. Io, in quarto d'ora, ne ho identificate una lista enorme. Ma, quello che vi chiedo è di tirarne fuori voi, altre. E, anche chi mi seguirà dopo, di scriverle nei commenti, così che poi magari identifichiamo proprio una lista e l'aggiungiamo nella descrizione. Questo perché io direi che è fondamentale comprendere ciò da cui siamo dipendenti e soprattutto crearci i nostri obiettivi verso delle dipendenze funzionali. non delle indipendenze perché ricordiamoci che l'indipendenza è un lontano da cioè mi sto allontanando da qualcosa non vado verso niente. L'indipendenza è per assunto un allontanarsi da qualcosa. Invece, l'obiettivo deve essere avvicinarsi verso qualcos'altro. Quindi, avviciniamoci definiamo quali sono le dipendenze e togliamo le disfunzionali e mettiamo le funzionali quindi andiamo verso le dipendenze funzionali ma se non sappiamo quali sono le dipendenze e quali possono essere quelle funzionali e disfunzionali non ci arriveremo mai ed ecco che corriamo in ruota il criceto e non raggiungeremo mai nulla nella speranza che un giorno vinciamo al superenalotto e ricevamo sta cosa. Innanzitutto che cos'è una dipendenza? La dipendenza beh, quella più comune se ci pensiamo veniamo chiamati dipendenti quando abbiamo un lavoro con un contratto. Quindi possiamo tranquillamente mutuare la logica dei contratti da dipendente per dire che dice si dipendenza qualcosa che condiziona le nostre scelte quindi condiziona la nostra vita in modo più o meno ampio basato su delle regole che vengono imposte dall'alto e che noi accettiamo teoricamente non sempre noi accettiamo noi comunque le accettiamo consciamente o inconsciamente in un contratto di dipendenza firmiamo e le accettiamo inconsciamente vuol dire che le firmiamo inconsciamente anche se non ci hanno mai presentato il contratto ma c'è che vuol dire che se in quel contratto contratto a dipendente come funziona ti dicono ah devi lavorare dal lunedì al venerdì sabato e domenica libero lavori otto ore al giorno dalle nove alle diciotto e guadagni duemila ore al mese ok questo è un contratto di dipendenza quindi io dipendo per cinque giorni a settimana in quegli orari da questo personaggio qui o da questo lavoro qua che in cambio mi dà quattro spicci e io devo organizzare la mia vita quindi le mie scelte devono essere dipendenti dalla dipendenza ciò vuol dire che se devo andare a fare qualcosa la posso fare sabato e domenica la posso fare dopo il lavoro d'ufficio e mi devo organizzare con quei soldi che guadagno quindi la dipendenza è qualcosa per cui si accetta una regola dove ci dovrebbe teoricamente essere un contratto dove ci dovrebbe essere un do des quindi io ti do del tempo tu mi dai dei soldi dove nella dipendenza te pagano pure l'inps e che condiziona condiziona assolutamente le tue scelte ok fin qui ci siamo ecco osama mi dice sai che la tua vita è invidiata da 7 miliardi di persone caro daniele indipendente dal sesso indipendente dai soldi indipendente dal sistema indipendente da tutto hai tutto il rispetto osama in realtà non è così perché ti dirò stasera tutte le mie dipendenze tu dici invidiato ma assolutamente no assolutamente no perché io sono stradipendente è proprio questo il concetto cioè quando ho fatto la mia lista di dipendenze io ho detto sì ok sono indipendente da quelle robe lì sì ma sono dipendente da tante altre e lo vediamo oggi ancora di più oggi io non ho la possibilità cioè io che ho fatto un'intera vita per raggiungere una qualità di vita uno stile di vita insomma tutta una una qualità di vita oggi sono assolutamente dipendente dagli altri devastante diventa fondamentale diventa fondamentale capire da cosa siamo dipendenti per poter fare delle scelte migliori questo perché perché come vi dicevo prima la dipendenza dicesi dipendenza qualcosa che teoricamente dovrebbe avere un contratto scritto o non scritto di cui noi accettiamo le regole consciamente o inconsciamente dove ci dovrebbe essere un dare avere divento dipendente lavoro un po' di ore tu mi devi uno stipendio mi paghi l'imps eccetera bene e questo è facile potrei dire che dipendenza è tutto ciò che condiziona le mie scelte cioè ciò che non mi permette di avere delle scelte incondizionate indipendenti vi faccio vi faccio un esempio banale nel mio caso qualcuno dice prima mi dice osamati ti ammiro perché tu sei una persona indipendente da tutto no non è vero assolutamente no vi faccio vedere una lista di cose di cui sono dipendenti adesso poi vi potrò dare le mie di dipendenza io sono dipendente ad esempio dalla temperatura che vuol dire temperatura io non sopporto il caldo ma non sopporto proprio perché sto male quindi ho bisogno sempre o del fresco o dell'aria condizionata io sto benissimo in una in una in una temperatura da pinguini cioè se io c'ho i pinguini vicino sto bene infatti vivere con me è drammatico perché o ami il freddo o te congeli e devi stare proprio coperto quelle cose che vuol dire dalla temperatura vuol dire che se qualcuno mi dicesse Daniele devi fare una passeggiata oggi a 40 gradi io ti direi no ma non perché lo voglio io ma perché devo rispettare la mia dipendenza alla temperatura perché vorrei anche andarmi a fare una passeggiata ma a 40 gradi e 12 di mattina no perché so che starei male quindi la mia salute la mia facoltà mentale il mio benessere il mio la mia voglia di stare bene non mi permette di uscire a determinate temperature se qualcuno mi invitasse a casa ciao Daniele vieni dai stai da me la prima domanda che faccio è l'aria condizionata non gli chiedo come è no la mia prima domanda è l'aria condizionata eh no ok grazie vado in hotel non solo ma se vado in hotel e l'aria condizionata non funziona ci ho fatto un casino a Milano mi sono fatto rimborsare la stanza mi hanno dovuto pure pagare sto per cui io sono estremamente dipendente ad esempio la temperatura l'inverno studia di infatti voi mi direte ma sei andato a vivere in Asia che fa sempre caldo sì è vero che fa sempre caldo ma lì c'era è condizionata ovunque quindi tutto sommato e poi soprattutto si vive negli orari non caldi ma non è che so solo io pure loro quindi ad esempio vi direi la prima dipendenza nel mio caso è da temperatura che è ben diverso noi siamo sempre convinti che la dipendenza sia da da denaro da sesso da da giudizio degli altri no vi posso garantire che ci sono una valanga di dipendenze che vi condizionano le scelte che vi condizionano le scelte avreste mai pensato la dipendenza da temperatura bene io ce l'ho è già la prima che spunto io facciamo un po' una lista delle dipendenze che abbiamo che abbiamo definito noi allora la prima dipendenza che potrei dire quella più conosciuta è la dipendenza finanziaria ma vabbè la dipendenza finanziaria c'è ben poco c'è ben poco da dire bene o male sono dipendente dal denaro ok quindi quando il denaro dipende o meglio mi condiziona le scelte allora vuol dire che io ho una dipendenza finanziaria attenzione però dipendenza finanziaria non vuol dire scarsita di denaro può anche voler dire troppo denaro perché io ho conosciuto gente che ha milioni di euro e che è dipendente da quei milioni di euro perché deve dedicare tempo le sue scelte sono condizionate dal fatto che deve dedicare tempo quotidiano a non perdere quel denaro a investirlo a moltiplicarlo a farlo fruttare eccetera quindi la dipendenza finanziaria non vuol dire solo scassita di denaro vuol dire che io dipendo dal denaro punto sia che ce l'ho sia che non ce l'ho ma l'importante è che il denaro condizioni scelte quindi io non vado dall'altra parte del mondo perché non c'ho soldi non vado a farmi una cena da mille euro perché non c'ho soldi oppure può essere al contrario non vado a farmi una cena da mille euro perché ho i soldi devo investire oppure perché sono tirchi oppure perché sono purcia vabbè mille euro ci può anche stare ma c'è gente che ad esempio la dipendenza dal denaro è anche da chi è estremamente braccino corto sapete i braccini corti quelli che si vede perché si dice braccino corto perché il braccino corto non riesce a mettere la mano nella tasca quindi non riesce a prendere i soldi si dice è famoso dei genovesi in realtà si trovano dei casi di questa razza di questa razza di ominide ominide braccino corto che in verità abbiamo più definito abbiamo definito vorrei fare un giorno si potrebbe fare una roba da zeli i cosiddetti purciari con rolex i purciari con rolex che sono quelli che sono po' braccino corto per eccellenza che magari ti pulciarano su tutto cioè sono quelli che magari mettono l'offerta del supermercato prima del tempo che ti occupa andare dall'altra parte della città ora tu sei dipendente dall'offerta ecco c'è gente che può essere dipendente dall'offerta mettiamo anche questo regia mettiamo dipendenti dalle offerte speciali dipendenti dagli acquisti o dipendenti dai non acquisti cioè da risparmiare o dipendenti dallo sperperare dall'acquisto compulsivo e già queste sono altre dipendenze Enzo Motori dice io sono dipendente dal denaro è la mia passione Enzo Motori si va bene dipende quanto che cosa intendi per dipendente dal denaro cioè il denaro comanda le tue scelte ecco qualcun altro Jenny scrive io sono dipendente dalle coccole dal contatto fisico questo in effetti lo dobbiamo aggiungere regia aggiungiamolo io spero ci sia una regia però dico regia raggiungiamolo poi verrà il contatto fisico è le coccole non sei la prima che vedo con questa dipendenza c'è gente che ho conosciuto persone che condizionavano le proprie scelte in base alle coccole al contatto fisico quindi pur di avere quando vi dicevo il contratto cioè come nella dipendenza lavorativa io ti do del tempo tu mi dai del denaro ecco nella dipendenza da coccole e contatto fisico io ti do qualcosa o te la do e tu mi dai contatto e coccole e contatto fisico anche questo ci sta ci sta e ci sono diverse persone a cui manca questo che è ben diverso dal coccole e contatto fisico è un ottimo spunto perché effettivamente l'ho visto in diverse persone che non è neanche legato al sesso cioè a volte il sesso diventa una merce di scambio per avere il contatto fisico e le coccole spesso e volentieri gente a cui è mancato da piccoli no? e quindi ok quindi il concetto di dipendenza finanziaria ricordatevi che non è solo per voler più denaro ma è anche proprio dipendenti dal denaro quindi sia chi ce n'ha troppo sia chi ce n'ha poco poi ovviamente le dipendenze affettive beh qui insomma è difficile non comprenderlo le dipendenze affettive sono quelle dipendenze che hai a causa di un'altra persona quindi ti affezioni a un'altra persona almeno così si dice e quindi condizioni le tue scelte in funzione di questa persona i classici compromessi quando vivi con una persona o in qualche modo condividi qualcosa con una persona a te cara questo condiziona enormemente la propria vita nelle dipendenze affettive diciamo che sono abbastanza ampie io le andrei a specificare molto meglio perché ad esempio nelle dipendenze affettive le andrei ad esempio a specificare come dipendenze mettere ad esempio dipendenze familiari le dipendenze familiari che sono sì dipendenze affettive però ad esempio le dipendenze familiari da parte di parenti nonni zii cugini genitori figli perché i figli sono un'enorme dipendenza i genitori sono un'enorme dipendenza quando siete voi figli e i figli sono un'enorme dipendenza quando siete voi genitori non solo dagli ex mariti o dagli ex mogli cioè le dipendenze dai matrimoni andati a male non andati male andati a male proprio ecco queste possono essere enormemente enormemente dipendenti quando avete conosco gente che con un matrimonio è andato a male si ritrova il marito o la moglie che gli fa da stalker che magari hanno un bambino che non accettano di firmargli sul passaporto che non gli non gli permettono di uscire dalla nazione non gli permettono di fare niente quindi le dipendenze da matrimonio sia che è ancora in atto sia che è andato a male sono enormi e a volte non si considerano diciamo io sono libero perché mi sono divorziato eee auguri auguri mica è così tanto facile soprattutto se avete i figli quindi tra le dipendenze affettive dividerei io vi sto dando tutta una serie di cose in maniera tale che poi voi possiate fare una lista di tutto questo in modo che iniziate a essere consapevoli delle vostre dipendenze e di quali dipendenze possono essere utili e quali no perché attenzione non è che tutte le dipendenze sono cattive assolutamente visto che l'indipendenza è una chimera quindi qualcosa che non si raggiungerà mai almeno tendiamo verso le dipendenze utili e allontaniamoci dalle dipendenze inutili e questo è quello a cui voglio farvi arrivare però per poter tendere verso qualcosa dobbiamo avere un obiettivo ben definito ma anche per allontanarci da qualcos'altro quindi prima identifichiamole come al solito poi muoviamoci verso e allontaniamoci da ok vediamo un po' ancora qualcos'altro l'indipendenza familiare che l'abbiamo detta quindi rientra un po' nelle dipendenze affettive o la dipendenza poi da relazione indipendenza da relazione o da relazioni se poi se ne hanno più di una per cui se avete un uomo un amante una donna tre amanti ex mogli figli diventa un casino quindi dovete considerare le persone attuali le persone passate dovete dar da conto a tutti ricordatevi per dipendenza intendo tutto ciò che vi condiziona nelle scelte quindi voi voleste andare che ne so ai caraibi per una settimana da soli potete farlo? no perché? perché i vostri genitori vi dicono i vostri amici vi possono dire che vai a fare te condizionano come farò senza di te i vostri figli dicono mamma dai ai caraibi e noi non ci veniamo il vostro amante è che vai da sola ai caraibi e vai a fare l'amante come vai da sola ai caraibi potete venire con me insomma casino a quel punto non ci vado resto a casa quindi ricordatevi la dipendenza è tutto ciò che condiziona una vostra scelta quindi voi non siete liberi di fare le vostre scelte perché? perché x, y e z le amicizie sono anch'esse condizionanti perché a volte gli amici per la pelle sono quelli che quando dovete fare una scelta vi condizionano nel farla magari voi vorreste fare qualcosa dei vostri amici no è una cazzata no non farlo no non si è portato no dai resta con noi no dai facciamo questo e se voi siete dipendenti dei vostri amici vi farete condizionare nelle scelte anche dalle amicizie quindi anche questo dobbiamo aggiungere alle cose io intanto me le segno anche amicizie coccole contatto fisico così almeno ce l'abbiamo poi le aggiungo tutte quante contatto fisico ok allora poi cos'altro abbiamo un'altra un'altra dipendenza che ho identificato ad esempio quella di mio padre è la dipendenza medica ci sono condizioni per cui potremmo essere dipendenti dalla medicina ad esempio mio padre che ha una una patologia che in realtà non è neanche una patologia ha un problema che è stato risolto è stato diciamo tappato in una certa maniera che ha bisogno di una volta ogni mese due mesi ogni tre settimane di andare in ospedale per fare un cambio ecco è dipendente e mio padre non si può muovere perché dovrà necessariamente stare sempre vicino a un ospedale perché questa roba potrebbe in qualche modo bloccarsi da un momento all'altro e ha qualche ora per doverla risolvere quindi la dipendenza medica diventa a volte un problema e può diventarlo quando siete anziani quando a volte anche quando siete giovani ci sono bambini condizionati da macchine ci sono bambini condizionati da patologie ci sono bambini che hanno bisogno di infermieri dietro a loro 24 ore su 24 in quel caso quelle sono patologie le patologie la dipendenza medica potrebbe anche essere potrei metterci come sotto dipendenza quella allergica cioè se siete allergici poi lasciamo perdere che le allergie a maggior parte dei casi sono mentali però se siete allergici a qualcosa voi non potete andare in determinati posti dove c'è quel qualcosa oppure siete costretti a stare sempre con gli antidoti necessari ad esempio per i diabetici siete dipendenti dall'insulina quindi avete una dipendenza medica quindi avrete bisogno sempre di portarvi determinate cose dietro di avere vicino qualcosa che vi possa rifornire delle varie l'insulina delle siringhe eccetera quindi la dipendenza medica vi condiziona nelle scelte nel momento in cui avete una patologia un'allergia e anche questa l'avevamo indicata un'altra dipendenza che ho identificato è la dipendenza culturale la dipendenza culturale può sembrare una cazzata invece vi condiziona perché in base alla cultura che avete siete tagliati fuori da determinate scelte se avete una cultura elementare non sapete neanche parlare l'italiano non potrete andare a frequentare magari dei club se voi voleste andare a Rotary e però non sai accocchiare un gerundio o un congiuntivo diventa difficile che ti prendano quindi oppure se tu volessi fare un lavoro o volessi entrare in determinate ambiti o diventare uno youtuber che ne so e che devi parlare se hai una dipendenza culturale dal fatto che sei ignorante cioè ignori la lingua per esempio oppure ignori determinati ambiti quella dipendenza non ti permette di fare determinate scelte se tu volessi fare quello che faccio io ma non sai niente di mente non sai niente di psicologia non sai niente di PNL non sai esperienze personali e fino a ieri giocavi ai videogiochi diventa difficile poter fare quello che faccio io quindi la tua scelta verrà condizionata vuoi diventare uno youtuber vai su twitch e ti metti a fare i videogiochi quindi la dipendenza dalla cultura ti condiziona le scelte capite come le dipendenze sono molto sottili cioè non stiamo parlando solo di dipendenza finanziaria emozionale fisica no siamo dipendenti da un botto di cose e questa la dipendenza culturale ce l'abbiamo tutti io per primo sono dipendente dalla mia cultura quindi non ho uno spettro di infinite possibilità ho uno spettro di finite possibilità basate sulle mie conoscenze quando qualcuno mi dice a volte mi rapporto con delle persone giovani e meno giovani dove mi dico ma sai vorrei creare delle rendite vorrei fare vorrei dire vorrei su vorrei giù e la mia prima domanda è che sai fa? cioè che sai fa? e niente e che te devo fa? cioè non è che crei le cose dal nulla puoi monetizzare qualcosa puoi creare delle rendite ma dipende pure da quello che si fa perché se fino a ieri ne hai fatto niente appunto veramente non hai fatto niente hai fatto cose inutili o cose comunque non monetizzabili e devi cominciare da zero cioè se non sai niente di internet se il telefono lo usi solo per facebook e instagram se non hai la più pari che cosa sono le criptovalute che ne so se non sai come funziona il marketing se non sai come usare instagram come strumento per pubblicizzarti se non sai come usare facebook se non sai cos'è un pixel di facebook se non sai come usare youtube se non sai montare un video se non sai fancazzo allora quel mondo lì scordatelo puoi creartene un'altra di rendita ma non certo in quell'ambito ok quindi la dipendenza culturale è enorme perché non è come ci raccontano noi viviamo in infinite possibilità tutti abbiamo le stesse possibilità non è vero cioè tutti abbiamo le stesse possibilità quando nasciamo ma dal nostro primo vagito cominciamo a crearci la nostra strada e questa strada la cultura ci restringe la strada su cui possiamo fare le nostre scelte ce la restringe enormemente così a seguire la 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 dipendenza linguistica se non avessi saputo l'inglese non avrei potuto fare niente di quello che faccio oggi niente vi giuro niente niente cioè oggi sarei letteralmente un incapace solo grazie all'inglese l'inglese mi ha permesso di poter avere rapporti con l'estero studiare nuove nuove culture rapportarmi con nuove culture grazie alle nuove culture andare a scavare nella mia testa grazie agli scavi nella mia testa andare a cercare ciò che qualcun altro ha fatto ma non certo in Italia all'estero e da lì prendere spunti e da lì andare ancora oltre quindi tutto ciò che faccio dipende dall'inglese e da qualunque altra lingua che puoi conoscere quindi la la dipendenza linguistica e culturale credo sia quella primaria quella più grande quella che ti setta enormemente le tue scelte è molto semplice l'indipendenza linguistica se tu domani decidessi voglio creare un business in qualche modo e ho bisogno di prodotti bene se non sei l'inglese i prodotti li comprai necessariamente in Italia e gli paghi il doppio fisso cioè ma ci sono i traduttori e auguri prova a rapportarti con un fornitore con un traduttore ma non solo l'indipendenza la dipendenza linguistica e culturale ti incide anche sulle relazioni ti incide sul sesso uno dice ah ma io voglio trombare bravo ma tanto ci sono 3 miliardi e mezzo di donne no non è vero perché se sei se conosci 4 parole in croce solo di italiano le donne non so più 3 miliardi e mezzo so 2 milioni e vedi che non puoi ragionare più sui grandi numeri so 2 milioni e devi spartire tra tutti invece se conoscessi l'inglese e conoscessi altre cose quindi i mezzi di comunicare sapresti essere più interessante sapresti essere interessante in tutto il mondo e allora sì che ragioniamo 3 miliardi e mezzo di donne o di uomini viceversa quindi la dipendenza enormemente cioè le dipendenze culturali e linguistiche ti stroncano e ti limitano completamente la vita tutte ti limitano la vita però non ce le dimentichiamo perché queste non vengono viste la gente pensa la mia più grossa dipendenza sono i miei genitori sono il mio lavoro eeeh forse fa quella e là e noi in attimo cioè i genitori si convincono il lavoro si leva ma la dipendenza culturale non te la levi come ti levi un lavoro cioè tu non abbandoni la tua ignoranza così come puoi togliere un lavoro non impari l'inglese così come puoi convincere i tuoi a lasciarti andare all'altra parte del mondo non funziona così quindi vediamo che siamo convinti di essere dipendenti da cose che in realtà non sono i focus fondamentali ma sono le distrazioni ricordiamoci il concetto di distrazione ricordiamoci il concetto di distrazione poi andiamo avanti abbiamo detto medie culturali e linguistiche dipendenze informatiche digitali ecco le dipendenze informatiche o digitali diciamo sono quelle di questo periodo cioè noi siamo siamo dipendenti dal computer siamo dipendenti dal telefonino io sono dipendente dal computer io assolutamente lo sono ma perché perché io vivo col computer io direi ho anche una dipendenza da linea internet cioè non solo sono dipendente dal computer ma sono dipendente da linea internet e me ne sto rendendo conto adesso che mi manca perché le mie scelte sono condizionate in base alla presenza o meno di linea internet cioè le dipendenze sono ben maggiori di quelle che crediamo la dipendenza da computer o da telefonino oggi abbiamo statistiche che mediamente una persona guarda il telefonino una volta ogni 4 minuti io non vi nego che quando sto facendo trading o c'ho delle posizioni molto alte aperte su delle criptovalute come in questo periodo guardo molto più spesso il computer quindi ne sono dipendente ho con me sempre un computer ovunque vado comunque un computer un telefonino con cui poter accedere per poter fare qualcosa in caso di quindi io sono ecco un'altra delle mie dipendenze è computer computer non tanto perché devo andare su facebook non manco ce l'ho più lo uso soltanto per voi facebook e niente ma per in questo caso investimenti trading quindi non è tanto perché ne ho bisogno ma la dipendenza da trading per esempio che è quasi più un gioco d'azzardo però la dipendenza da trading finanziario è un'altra delle cose da aggiungere non ne sono dipendente ma quando sto in determinate condizioni sono costretto a tenerlo un po' più sott'occhio quindi nelle mie scelte sono condizionato da avere un computer sotto mano per quel periodo di tempo che poi serve per uscire da quella posizione ecco Enzo Motori sa di che cosa sto parlando quindi però c'è anche da dire che tanti altri sono condizionati dalle notifiche da queste nuove tecnologie sono condizioni abbiamo fatto un flow sulla dopamina dove spiegavamo come i social media e quindi i like i commenti siano una delle cose più dopaminiche per la mente umana perché fondamentalmente senti quell'apprezzamento di qualcuno che ti caga cioè qualcuno ti ha messo il like vuol dire che qualcuno ti ha guardato quindi sei stato apprezzato non so cosa te ne faccia però cosa te ne puoi fare però se ti fa star bene sappi che stai buttando il tuo tempo per dei like serena leghi dice il pc è diventato il mio terzo braccio serena leghi però chissà che ci fai col tuo terzo braccio e andiamo avanti la digitale la la dipendenza informatica digitale oggi è da vedere tanto perché tanta gente probabilmente farebbe di tutto pur di non farsi rubare il telefono cioè se potesse scegliere tra farsi rubare in casa e farsi rubare il telefono probabilmente si farebbe rubare in casa perché sul telefono c'ha di tutto c'ha veramente di tutto quindi attenzione un'altra un'altra dipendenza che oggi purtroppo mi sta condizionando la vita e questa è grossa perché in questo momento storico è effettivamente enormemente condizionante è la dipendenza politica e già qui mi è da starnurire almeno ci penso scusate la dipendenza politica è oggi quella che a me personalmente condiziona di più la vita cioè io dipendo dalle scelte della politica la politica decide tu non puoi più entrare in Thailandia fino a X e io sono bloccato nelle mie scelte vorrei fare ma non posso non perché non me lo posso permettere non perché non ho le capacità non perché sto su una serie a rotelle non perché mi mancano i soldi non perché i miei genitori mi bloccano non perché qualcuno mi blocca no perché la politica mi dice no c'è il virus non puoi andare oggi come oggi la politica purtroppo dipende e qui qui purtroppo ci siamo tutti la politica dice tu ti devi vaccinare devi vaccinare i tuoi bambini tu ti devi vaccinare non lo fai e cazzi tuoi vedi che te combino e quindi devi andare lì avvocati carte burocrazia perdi tempo quindi il fatto che usi del tempo e delle risorse per qualcosa vuol dire che stai dipendendo da quel qualcosa le tue scelte non sono libere ma sono condizionate da la politica è un condizionamento enorme però vediamo quanto la politica ci condiziona quanto le leggi ci condizionano politica leggi perché magari che ne so io avrei voglia di che cacchio ne so spaccare le gambe a quello che mi ha rigato la macchina non mi ha rigato la macchina nessuno mi spacca però non lo posso fare perché sono condizionato quindi sei condizionato dalle tue scelte nella politica io vorrei oppure qualcuno vorrebbe stalkerare la sua ex e menaie perché non gli fa più da che ne so da bancomat è vero non lo può fare perché la ex lo denuncia per stalker e quindi è bloccato dalla politica quindi ci sono queste cose che devi rispettare purtroppo se no ti fanno un culo quanto una casa e questa è dipendenza da legge e da politica magari in un'altra nazione è la più facile tipo Russia che ne so paghi non so in altre nazioni è più facile poter poter ottenere alcune cose ma se stai in azioni come l'Italia l'Italia ti dice questo no e tu devi stare zitto in Mosca e devi e devi star buono quindi la dipendenza politica è una dipendenza oggi come oggi devo dire enorme infatti mi viene da grattarmi il naso enormemente ecco Lorenzo mi dice mi ha anticipato Daniele io avevo malissimo questo periodo ma più che altro Lorenzo guarda ecco il concetto è proprio questo il fulcro di questa serata è nel momento in cui comprendi da chi dipendi cerchi la funzionalità e riorganizzi i tuoi obiettivi in funzione di vediamo un po' quali altre allora la politica l'abbiamo capita ecco un'altra un'altra dipendenza che forse molti sottovalutano è la dipendenza da animali la dipendenza da animali che questa vuol dire diverse cose la dipendenza da animali per chi ha degli animali domestici cani gatti canarini criceti serpenti guana quello che vi pare è purtroppo dipendente dagli animali cioè le scelte le dovete fare condizionate agli animali che avete scelto tempo fa di avere con voi per soddisfare la vostra paura di abbandono nella maggior parte dei casi o la necessità di avere qualcuno sotto controllo al guinzaglio che faccia quello che dite voi o di qualcuno che vi aspetti a casa visto che non riuscite a trovare nessun altro che non sia un cane per la serie non c'è un cane che mi aspetta a casa vi fate un cane avete un cane che vi aspetta a casa un gatto un criceto un coniglio un serpente a volte a volte a volte solo degli scarafaggi e gli animali sono enormemente condizionanti perché nel momento in cui appunto avete scelto di stare con loro loro sono totalmente dipendenti da voi ma voi siete totalmente dipendenti da loro quindi non potete allontanarvi per più di tot non potete andare nei posti dove non li accettano dovete considerare i costi dovete fare tutta una serie di cose che a volte e soprattutto a volte a volte manco tanto gli animali sono peggio dei figli perché i figli a un certo punto possono diventare indipendenti gli animali visto che sono stati condizionati a essere dei burrettini vostri non possono diventare indipendenti cioè un cane che è cresciuto con voi non è indipendente non è che se lasciate in un bosco questo gode finalmente perché ha raggiunto la libertà no è incapace di cacciarsi del cibo quindi morirà quindi non potete farlo ed ecco che diventate dipendenti dai vostri animali questo è una dipendenza importante la dipendenza da altre persone è la dipendenza da altre persone si rientra nella dipendenza affettiva nella dipendenza della giudizia degli altri l'abbiamo detto Francesco dice madonna se si è condizionati con gli animali eh sì Francesco lo so bene un altro condizionamento che a volte si sottovaluta è la dipendenza da luoghi la dipendenza da luoghi la dipendenza da luoghi vuol dire che ci sono persone che hanno necessità di stare magari nella loro regione nella loro città nella loro eh io vedo ad esempio mio padre mio padre è dipendente dalla sua casa è dipendente da quel luogo perché? perché in quel luogo ci sono determinati amici ci sono determinate persone c'è fratello c'è le cose per cui spostarlo da lì diventa impossibile perché è enormemente dipendente dal luogo in quanto il luogo ha tutto un contesto attorno che soddisfa tutta una serie di bisogni e non c'è speranza di ma guarda spostando da un'altra parte è lo stesso no ma quello è il luogo punto ci sono persone che sono dipendenti dipendenti ad esempio dalla loro città non si allontano da lì ci sono persone che scelgono di essere dipendenti ci sono persone che invece sono dipendenti magari appunto dagli ex mogli o mariti o figli e sono costretti a stare nel luogo ma la dipendenza è da un'altra parte cioè non sono loro che sono dipendenti dal luogo ma sono costretti a stare nel luogo quindi la dipendenza è da mariti figli ex mariti ex mogli eccetera un'altra enorme dipendenza è la dipendenza da proprie aziende questa l'ho vissuta in l'ho vissuta sulla mia pelle enormemente per un sacco di anni la dipendenza da aziende è enorme perché nella maggior parte dei casi gli imprenditori fanno quell'enorme errore di creare aziende in cui sono indispensabili invece che creare un'azienda in cui sono inutili e quindi essendo indispensabili loro devono far vedete come tossisco al solo pensiero delle aziende per cui sono stato indispensabile per anni mi sono creato le mie gabbie sappiate che molti imprenditori me lo confermeranno ci sono imprenditori in linea che fare impresa crea molta più dipendenza che essere un lavoratore dipendente perché mentre per il dipendente almeno il sabato e la domenica e la sera ce l'hai libera e non hai responsabilità quando hai impresa non esistono orari non esistono giorni non esistono ferie non esiste niente non esistono malattie ecco c'è da dire che se fai l'imprenditore ti ammali molto meno quindi sei molto più sano infatti devo dire che io sono stato sempre discretamente sano perché ho fatto l'imprenditore perché l'imprenditore non si può ammalare non ha l'imps non ha il medico non ha la copertura quindi se ti ammali fai solo casini per l'azienda e non va bene quindi la dipendenza da aziende può essere enormemente condizionante quando decidete di fare un'azienda ragionate che ragionate in funzione in funzione per cui quella diventerà una vostra gabbia diventerà una vostra prigione se non la organizzate bene non solo a seguire ma non meno importante e molto spesso correlata alle aziende quindi alla dipendenza da aziende si aggiunge la dipendenza da debiti perché ma questo non solo con le aziende la dipendenza da debiti è enorme e tra l'altro anche questa è una delle cose che il sistema conosce benissimo perché nel momento in cui ti spinge a spendere o a fare debiti per andare in vacanza per comprare una macchina con caravatrice per comprare il televisore 72 pollici per comprare i vestiti fighi per tutto quello che è immagine per tutto quello che è sperpero per tutto quello che è inutile ed effimero tu vai oppure per comprare casa peggio ancora diventi dipendente dai debiti per cui sarai costretto a condizionare le tue scelte in base ai debiti sapete quando persone ho conosciuto che mi dicevano ah odio il mio lavoro di qua di là cioè perché non lo lasci eh ma c'ho il mutuo eh ma c'ho i debiti eh ma c'ho questo quindi il debito diventa un'enorme dipendenza nonché un'enorme scusa ecco perché è una delle prime cose che bisognerebbe fare questa è una delle dipendenze peggiori non esiste funzionalità nel debito a meno che non sia un debito fatto per investimento ma in quel caso un investimento non è un debito quindi il debito passivo il debito inutile il debito per qualcosa che appunto il debito passivo cioè quello che non mi rende non ha senso ed è una dipendenza enorme che condizionerà le vostre scelte a tutti i livelli perché quei debiti non vi potete muovere non potete cambiare eh vi condizionano tutto 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 ecco questa è la prima divenza da cui bisognebbe allontanarsi quindi se avete debiti il vostro primo obiettivo dovrebbe essere pagare tutti i debiti restare a zero tagliare le carte di credito cancellare i conti bancari eh lavorare soltanto i soldi che c'avete cioè con quelli che avete se non ce li avete lo usate come spiego nel mio corso gratuito sulla mentalità finanziaria che trovate su Anaera gratis usate la mancanza di denaro non per piangervi addosso non per fare debiti ma per spronarvi a fare più denaro e a pagare i debiti ricordate avete se avete dei debiti e avete del denaro la prima cosa che dovete fare è pagare i debiti io non non comprendo gente che ha soldi in banca e debiti da pagare non ha senso perché i debiti da pagare vi 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 tolgono soldi tanto quelli aumenteranno e i vostri soldi in banca non vi danno niente cioè avete i soldi in banca fermi allo 0.1% e dei debiti che vi costano il 10 l'anno cazzo chiudeteli subito subito eppure vi garantisco che c'è gente che c'ha mutui debiti e c'è i soldi in banca è la cosa più stupida che si possa fare ovviamente non vi dico che dovete restare senza soldi però se avete un debito da 20.000 euro e avete 10.000 euro in banca o avete un debito da 5.000 euro e avete 10.000 euro in banca 5.000 euro pagate il debito subito perché se no quei 5 vi costeranno molto di più invece nella mentalità del debito che è stata installata a monte nell'occidente c'è la gente che fa la corsa al debito è il tasso 0 ecco è il tasso agevolato è la prima rata gratis e compra la macchina nuova e le prime tre rate te regalo io te regalo o stereo una batteria di pento e una bicicletta e una lavatrice cioè capito però devi fa debito c'era un periodo ma forse lo fanno ancora non me lo spiegavo perché era oggettivamente stupido però in realtà nell'ottica di creare condizionamento aveva un senso perché me lo sono spiegato tanti anni dopo dove tu andavi nei centri commerciali non so se lo fanno ancora adesso e che so c'era il televisore al plasma in contanti 1000 euro se fai il finanziamento lo paghi 900 a tasso 0 come cazzo è possibile cioè io te lo pago un po' al mese e lo pago addirittura meno se te lo pago in contanti se te lo pagassi in contanti il che è è finanziariamente errato cioè sarebbe stupido sarebbe commercialmente assurdo invece nella logica di condizionamento e di creare condizionamento nel debito con una sorta di tipi di agevolazioni conviene conveniva a loro e tu intanto ti sei preso un televisore che non ti saresti mai comprato a 1000 euro invece a 50 euro al mese per i prossimi 20 mesi te lo compri in più se è indebitato ed ecco che diventi dipendente dal tuo televisore o dalla tua macchina eccetera quindi Marco 90 dice cosa ne pensi del senso di colpa sì sì Marco uff a voglia se ci arriviamo a voglia se ci arriviamo vabbè allora parliamo ed è già che ci siamo dipendenza dai sensi di colpa sì assolutamente sì assolutamente sì come ci consiglia Marco la dipendenza dai sensi di colpa è una delle dipendenze emozionali più grandi e ricordiamoci che i genitori spesso o i compagni i compagni i ragazzi i figli sono fantastici nel condizionare le menti e quindi nel renderti dipendenti dai sensi di colpa c'è gente che ha vissuto delle vite di merda condizionate cioè che ha fatto scelte autonome teoricamente autonome vivendo una vita di merda autocondizionata dai sensi di colpa che venivano installati a monte dai genitori dai nonni dai fidanzati dalle fidanzate eccetera quindi i sensi di colpa sono una dipendenza interiore immensa immensa forse non è più grandi che attenzione il senso di colpa da non confondere con l'etica perché non è il senso di colpa è qualcosa che viene installato in maniera subdola non in maniera realistica cioè la mamma che ti dice no no vai 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 pure tranquillo non ti preoccupare certo mi mancherai starò male sto da sola chissà come farò chissà se potrò mangiare però tu vai non ti preoccupare stai sereno mi organizzo io non c'è problema non ho bisogno vai tranquillo vai tranquillo non ti do fastidio anche se sto morendo non ti avviso non ti voglio disturbare nella tua vita ecco cioè detto così non è esattamente un vai un vai tranquillo ma ti sto infilandoci sai sei un pezzo di merda io ti vorrei qua sappi che sto male mi farai un male enorme che figlio di merda sei te ne sei andato però tu vai tranquillo ti do la mia benedizione insomma mica tanto quindi tu lì scegli tu condizionato dal senso di colpa di restare ed è così sì il senso di colpa è immenso come condizionamento il senso di colpa è una delle dipendenze peggiori e ricordatevi i maestri nel nel condizionamento sono i genitori nei sensi di colpa tra l'altro il senso di colpa è una delle 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 scusami sono distratto un attimo il senso di colpa è una delle emozioni di base più comuni nel nostro mondo nel mondo occidentale che tra l'altro ricordiamo che il senso di colpa che genera la scarsa autostima perché il senso di colpa e scarsa autostima vanno a braccetto perché io mi sento in colpa vuol dire quindi non valgo è una è una condiziosine qua nonne perché se io valessi non mi sentirai in colpa se invece mi sento in colpa vuol mi sento inferiore quindi mi sento di aver sbagliato mi sento di non essere abbastanza capace abbastanza buona abbastanza brava mi sento di non essere abbastanza qualcosa e quindi vuol dire che la mia autostima se n'è andata senso di colpa e scarsa autostima genera l'insicurezza insicurezza che è la base del nostro mondo e che poi è la base del condizionamento a monte del sistema per cui una volta che ti ha creato insicuro o insicura ti dà i palliativi per essere più sicuro la bellezza Instagram la medicina la medicina estera la chirurgia estetica la palestra il denaro i vestiti gli oroloi i Rolex le cose che ti fanno sentire che ti danno ti dicono che ti fanno sentire più sicuro ma quando in realtà se sei condizionato ai sensi di colpa se ti senti un incapace se hai tutta quella serie di condizionamenti non è che una bella macchina o un bello orologio ti fa più sicuro pensi di essere più sicuro ma sei sempre quello di prima con l'orologio con la macchina e io ci sono passato sono stato così ero uno sfigato con con la Lotus ero uno sfigato col Mercedes il BMW tre macchine due moto due ville ma sempre uno sfigato dentro era cioè ero il timido sfigatello che si si faceva sicuro grazie a quegli oggetti ma in realtà quando sono realmente diventato sicuro di me non ho avuto più bisogno di oggetti anzi mi erano di troppo infatti è stato prima era una corsa all'accumulo dopo e ancora oggi è una corsa a dare via quindi stavamo dicendo gli sensi di colpa si sono un enorme un enorme condizionamento che poi genera scarsa autostima e che spesso e volentieri ammala ricordiamoci che il senso di colpa tocca la milza e la scarsa autostima tocca il pancreas che sono uno sotto l'altro ricordiamoci che pancreas vuol dire oltre che tu mori al pancreas quello famoso con cui è morto Steve Jobs vuol dire anche diabete una delle malattie autoimmuni secondo loro autoimmuni che colpisce sempre più persone al mondo e che colpirà sempre di più chissà come mai quindi prima creano insicuri poi creano diabetici poi creano malati cronici e hanno creato delle rendite poi andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti andiamo veloci che qui stiamo andando allora un'altra un'altro ah non ho quanti ce n'ho ancora raga badonna un altro condizionamento quindi un altro un'altra dipendenza a volte che ho trovato è la dipendenza da parola data cioè dall'onore cioè se io dico una cosa divento dipendente da quella cosa che ho detto vi faccio un esempio pratico avevo dato la parola al proprietario di casa che dove sto adesso che avrei preso casa per un altro mese quindi questa persona l'ha tolta dai suoi cosi per affittarla e a posto non mi ha chiesto soldi ormai gli avevo già già pagato poi il mese prossimo mi paghi quindi insomma si è affidato mi raccomando se me lo dici la lascio per te si si ho detto cazzo ti do la mia parola tranquillo insomma il prossimo mese la prendo io che cosa è successo poi che tutta una serie di cose mi ha portato a trovare una casa migliore con una linea internet migliore una posizione migliore eccetera a quel punto che fai la logica direbbe disdici quindi la funzionalità direbbe disdici e prendi la nuova fregatene tanto alla fine oh la affitteranno cioè non ho dato niente non perdo niente via però avevo dato la mia parola avevo dato la mia parola quindi ho chiesto se fosse possibile cambiare ho detto guarda ho avuto questa opportunità probabilmente vorrebbe non servirmi se mi avessero detto ma si tranquillo non c'è problema tanto abbiamo un sacco di richieste ok la mia parola sarebbe stata onorata io ti ho chiesto e via quando la persona mi ha detto eh però no adesso mi hai dato la tua parola io non ho altre cose l'ho già tolta ok basta perfetto non problem ti ho chiesto se era possibile bene ma se no ti rispetto la mia parola quindi per un altro mese prendo quella casa anche se scomoda anche se non funzionale come l'altra ma ho dato la mia parola quindi la mia scelta è stata condizionata dalla parola data e questo è una cosa difficile da trovare perché con la maggior parte delle persone che dico una cosa ne fanno un'altra è molto difficile però ad esempio questa secondo me è una delle dipendenze funzionali a cui bisognerebbe tendere cioè allontanarsi dalla dipendenza da debiti per esempio avvicinarci verso la dipendenza da parola data e da onore cioè verso la dipendenza dalla coerenza perché è una è una 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 qualità che hanno in pochi molto pochi anche perché se una persona ti dice una cosa e tu fai affidamento su quella cosa e poi ti cambia idea tu non gli fai più niente ovviamente cioè non credi più a quello che ti dice e quindi di conseguenza il rapporto diventa diverso sai che quella persona non onora la parola forse anche una cazzata però se l'ha detto non l'ha fatto questo è fondamentale questo secondo me è una delle dipendenze più importanti cioè più utili una persona che dice una cosa e la fa per me oggi è un miracolo rarissimo pochissime persone che dicono una cosa e la fanno sempre per me sono le persone in assoluto di maggior rispetto cioè sono le persone che io metto sul gradino più alto delle conoscenze e del rispetto della stima totale dici una cosa il giorno dopo non la fai scadi completamente non ti cago più per me non esiste cioè il valore della parola è pari a zero quindi puoi dire qualunque cosa tanto non ti crederò più ok tanto so che domani potresti cambiare idea quindi la dipendenza da parola data e la dipendenza dall'onore secondo me per me è una delle dipendenze più belle e valide e importanti in questo mondo altre dipendenze seguo identificato da gruppi o i gruppi i gruppi oggi sono una delle sono delle dipendenze enormi c'è gente da gruppi che può essere proprio sapete la comitiva allora se la comitiva dice X anche se non ci voglio andare ci devo andare perché faccio parte di quella comitiva dal branco no? ecco la dipendenza da gruppi vi condiziona le scelte io vorrei stampigiamo a casa a guardarmi Netflix invece no mi chiamano c'è la festa di X devi venire per forza tutte vesti e vai quello vuol dire che condizioni le tue scelte dai gruppi stessa cosa vale per i gruppi telefonici oggi c'è gente che vive con migliaia di gruppi c'è passare tempo a presto ai gruppi c'è stanno i gruppi vedete voi quanto siete dipendenti dei gruppi i gruppi delle mamme i gruppi dei papà i gruppi della scuola i gruppi del calcetto i gruppi del lavoro i gruppi della famiglia i gruppi delle amiche i gruppi degli amici i gruppi minchia 10.000 gruppi che cazzo ci avete da dire tutti sti gruppi cioè prima dell'avvento credo che whatsapp sia stato uno dei modi per rovinarsi la vita io ad esempio ho una valanga di gruppi su telegram sono tutti gruppi di criptovalute che mi servono per aggiornarmi non ne sono dipendente ma mi rendo conto che sbirciare ogni tanto quello che accade mi aiuta ad avere informazioni utili per eventuali investimenti conoscenze eccetera eccetera quindi alcune cose possono tornare utili alcuni no i gruppi possono creare dipendenza inutile ma possono anche creare una dipendenza funzionale nel mio caso ripeto dedico un po' di tempo al giorno in genere quando sto in bagno ho comunque insomma qualche qualche minuto ogni giorno a sbirciare nei vari gruppi di criptovalute per vedere se c'è qualcosa di nuovo anch'io ad esempio sono un po' dipendente dalle news cioè dagli aggiornamenti non tanto dalle fake news o dal gossip ma sempre nel mondo cripto o nel mondo asiatico quotidianamente ho i miei feed ho tutta una serie di riviste che vedo cioè di riviste online che guardo per avere informazioni su come si sta sviluppando il mondo in Asia così appena posso parto da qualunque parte asiatica riesco a trovare un buco oppure sulle cripto che posso essere aggiornato sulle news e magari sfruttare il fatto di aver saputo qualcosa prima per poter fare qualche investimento in più eccetera poi un altro dei delle dipendenze che devo annoverare all'interno di questa lista è la dipendenza da guru non da me perché io non sono un guru sono una fascia da guru ma dai guru quelli che si fanno veramente chiama guru ci sono persone che sono veramente dipendenti da questi guru che ci hanno che ne so i buddhisti i non buddhisti o quello che è i buddhisti non quelli asiatici poveri ma i buddhisti quelli che ci hanno intere colline o enormi proprietà in Europa dove va lì e sono dipendenti dalla parola del guru e quindi condizionano la loro vita magari non possono trovare un lavoro perché devono andare tre mesi quattro mesi sei mesi la ogni anno devono fare quello che dice il guru eccetera conoscevo persone che erano dipendenti da guru di Torino da guru e quindi le loro scelte erano condizionate da quello che diceva il guru il guru ti diceva ti devi svegliare le sette di mattina devi guardare la candela fisso per un'ora poi ti devi fa una doccia fredda poi devi fa tre giri a destra tre giri a sinistra poi è una mano alla cabeça una mano alla cintura un movimento lento e poi puoi iniziare la giornata non sto scherzando cioè esistono davvero queste cose e migliaia di persone facevano queste robe quindi erano dipendenti da guru anche lì se il guru vi fa fare cose funzionali utili per voi che vi migliorano buona dipendenza se vi fa fare cose inutili e vi condiziona la vita fate voi poi dipendenza da telefono ve l'ho detta ormai è inutile neanche parlarne dipendenza da obblighi sociali dipendenza da obblighi sociali ebbene le dipendenze da obbligo sociale sono quelle dipendenze che ci si autoobbliga perché se una persona deve nella sua mente deve mostrarsi in una determinata maniera e deve crearsi in una determinata immagine e nella sua immagine è una persona che va che ne so segue determinate cose si fa vedere a teatro vestito bene va alla mostra X va alla convention Y e allora sei condizionato dai vari obblighi sociali che la società ti impone in qualche modo o che tu ti imponi che devi seguire e devi a cui devi partecipare a cui devi fare presenza più che altro in cui devi in qualche modo esserci vediamo un po' qualcos'altro dunque obblighi sociali ho un'altra un'altra dipendenza che ho trovato nei nei miei anni di esperienza è la dipendenza da igiene voi mi direte che vuol dire di dipendenza da igiene vi posso garantire che ci sono persone che condizionano la propria vita dall'igiene cioè devono magari farsi due docce al giorno devono essere sempre puliti profumati eccetera devono stare almeno un'ora sotto la doccia se se si trovassero in un ambiente dove non c'è acqua non possono usare acqua non è pulito come dicono loro non ci vivrebbero mai quindi il condizionamento la dipendenza da igiene può condizionare molte scelte ad esempio nel momento in cui si ritrovere si potrebbero ritrovare in condizioni in cui l'igiene potrebbe mancare e se sono condizionati da essa non si adatteranno mai c'è qualcuno di voi che è così? allora la dipendenza lavorativa l'abbiamo detto la dipendenza oh questa eh vabbè questa qui io la metto adesso però è una delle più grandi la dipendenza da cibo la dipendenza da cibo c'è gente che dall'altra parte del mondo non si adatta al cibo della zona ma deve andarsi a mangiare cibo italiano gli italiani sono classici per questo voi troverete ristoranti italiani in tutto il mondo dove vanno gli italiani voi mi chiederete perché se un italiano va in Russia non si magna il blin russo e la zuppa russa e deve andare a cercarsi il ristorante italiano boh chiedetelo agli italiani voi chiedetemi perché perché fai un gruppo di gente che viene in Thailandia e invece di mangiare il cibo italianese che è fantastico se devono andare a cercare ristoranti italiani ma mangiano la pizza boh chiedetelo a loro io non me lo sono mai chiesto eppure la dipendenza da cibo è una dipendenza enorme non solo questo da cibo della propria zona ma anche da cibo in genere perché ricordiamoci che il cibo è una delle fonti di dopamina anzi la fonte di dopamina per eccellenza a più basso costo è più usata per qualunque cosa quindi di conseguenza moltissime persone sono dipendenti dal appunto dalle cose da mangiare e le loro scelte potrebbero essere condizionate da questo le loro scelte di cosa mangiare ad esempio anche se volessero avere una vita salutare potrebbero avere un condizionamento tale una dipendenza tale da cibo che in determinati momenti in cui hanno bisogno di dopamina quindi in cui hanno bisogno di piacere perché la vita non gli sta andando bene o perché chissà che è successo si sfondano di qualunque roba perché non riescono a a far valere delle scelte diverse quindi le loro scelte sono condizionate da determinate cose l'altra ancora stiamo andando verso la fine è la dipendenza da sesso la dipendenza da cibo e la dipendenza da sesso sono due dipendenze molto grandi vi posso garantire che la dipendenza da sesso non è non è ammessa da tantissime persone ma posso garantirvi che buona parte degli uomini soprattutto ma anche delle donne in una determinata fascia d'età fanno tutto in funzione di quello tutto in funzione di quello anche se non se lo ammettono loro stessi perché se andiamo a scendere in fondo in fondo in fondo in fondo in fondo in fondo alla motivazione reale per cui si fanno determinate scelte come la posizione sociale come il vincere le competizioni come l'apparire come il mostrarsi come avere la macchina più bella il vestito più bello apparire più bello vestirsi meglio essere palestrato eccetera o avere il trucco eccetera alla fine in fondo in fondo dietro hai molto spesso un obiettivo che è la dipendenza sessuale cioè io dipendo nelle mie scelte dal sesso io chiederei agli uomini se non dipendessero dal sesso se si vestirebbero nella stessa maniera se andrebbero in palestero nella stessa maniera se mangerebbero le stesse cose se avrebbero che ne so la stessa macchina gli stessi vestiti eccetera quanti uomini o quante donne ditemi voi se non è così quando eravate a caccia cioè quando eravate single vi vestivate vi truccavate in una determinata maniera poi quando avevate il sesso soddisfatto quindi avevate le persone a fianco a voi che vi soddisfacevano attenzione perché se non vi soddisfacevano eravate ancora a caccia ma che vi soddisfacevano il bisogno sesso improvvisamente non vi curavate più tanto del vestiario non uscivate più tanto mangiavate in maniera diversa l'attenzione era su cose diverse il vestiario era completamente diverso eccetera ditemi voi se non è così per quanti di voi ditemi voi a quanto questo è accaduto Mary Terry mi dice dipendenza dallo sport assolutamente si Mary lo sport è una delle cose a cui molte persone sono dipendenti però bisogna vedere se è una dipendenza da sport per quale motivo cioè se è uno sport fatto perché bisognerebbe andare a vedere sempre il fine dietro cioè se è uno sport fatto perché ne sei proprio dipendente dal movimento fisico perché forse hai stress devi fare devi dire o perché sei dipendente dalla salute allora ci può stare o perché sei dipendente dalla dalla competizione cioè ricordiamoci sempre qual è il fine quindi la dipendenza può essere sport ma in realtà dietro potrebbe esserci qualcos'altro quindi potete dovete ragionare anche su questo ok Michael dice che dipende dalla Nutella ok andiamo velocemente ve ne metto qualche altro velocemente vabbè la dipendenza da sostanze chimiche quindi da droghe alcol alcol fumo e cose varie vedete i fumatori i fumatori sono assolutamente dipendenti nelle scelte dal loro fumo cioè io voglio stare seduto al tavolo al ristorante il fumo chiama non posso stare seduto me devo alzare devo andare fuori ci sono persone che non fanno voli intercontinentali magari di 10 15 16 ore perché non ce la farebbero a non fumare quindi persone condizionate completamente dalla loro dipendenza altra cosa simile è dal gioco cioè un'altra dipendenza è quella dal gioco d'azzardo gioco d'azzardo ci sono persone che devono necessariamente giocare d'azzardo che possono essere le scommesse oggi come oggi sapete quelle che erano le schedine una volta al totocalcio all'enalotto all'otto o alle scommesse dagli scommettitori che adesso ci sono e sono legali oppure al gioco d'azzardo al Texas Hold'em alla roulette al tutto quello che è gioco d'azzardo online o nei casinò eccetera ultimo last but not least in assoluto in assoluto uno dei peggiori la dipendenza dal giudizio degli altri e con questo io chiudo dal giudizio degli altri la dipendenza dal giudizio degli altri è una delle dipendenze in assoluto peggiori in assoluto peggiori perché condiziona completamente la vostra esistenza giudizio degli altri vuol dire che se vi preoccupate di cosa pensano gli altri voi questa preoccupazione questa dipendenza vi cambierà le scelte di come vi vestite di come mangiate di quello che fate di chi frequentate la scelta addirittura di chi avrete a fianco c'è gente che sceglie il partner non perché ama il partner non perché gli piace il partner ma perché il partner è figo e piace all'altri perché vuoi mettere una volta una persona che in crisi mistica perché aveva perso il suo fidanzato che era un fidanzato figo maestro di sci tutte lo volevano e lei era la fidanzata di questo qua ed era entrata in crisi perché aveva perso il suo problema non era che cavolo lo amavo è andata con altra no era e mo le mie amiche che dicono io non so più non c'ho più quello perché se uno figo è di un certo livello sociale sta con me io mi innalzo cioè io raggiunco il suo livello sociale quindi io cresco improvvisamente in questo se questo me lasci io ritorno giù dipendente a tutti i livelli da questa cosa qui quindi il giudizio degli altri è enorme enorme il giudizio degli altri può essere finanziario comportamentale estetico pensate alle donne che si truccano che si truccano fa per il giudizio degli altri è sempre detto come sia particolare come le persone come gli uomini che si palestrano come ci si preoccupi molto di più dell'apparenza estetica perché gli altri chissà cosa possono pensare e non ci si preoccupa di quello che si butta dentro il corpo perché tanto gli altri non lo guardano quindi magari si truccano ma fumano si truccano ma si imbottiscono si truccano ma che ne so mangiano merda la mattina e la sera oppure vanno in palestra e si sfasciano di esteroidi che poi li distruggerà il corpo quindi fuori sono belli oggi ma domani saranno marci dentro che gli frega tanto domani tanto dentro mica si vede ricordatevi che le scelte di oggi vi faranno pentire domani quindi vi ricordatelo sempre l'altra cosa ecco qualcuno mi aggiungeva alla fine la dipendenza dalle fobie fobie e paure si la dipendenza dalle fobie e dalle paure condiziona enormemente le scelte dipende dalle paure cioè le paure che ne so le paure della gente ti costringe a non uscire le paure delle vertigine le paure delle altezze ti costringe a non prendere mai un hotel all'ultimo piano o a non volare o a chissà che la paura del volo ad esempio la paura delle altezze o degli aerei è devastante perché ti costringe all'interno della tua stanzetta quindi amici miei di fronte a tutte queste paure il mio il mio sprono questa sera è quello di innanzitutto se ne trovate altre scrivetemele e soprattutto fare una bella lista una bella lista delle vostre dipendenze quindi direi mettiamo da una parte tutte le dipendenze quelle che abbiamo detto quelle altre che 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 voi avrete trovato strada facendo dopodiché una volta che abbiamo questa lista mettiamo a fianco quelle di cui noi siamo dipendenti e gli darei anche un valore da 1 a 10 dove 1 è sono poco dipendente 10 è sono tanto dipendente ok nel momento in cui abbiamo identificato questa lista poi facciamo distinguiamo le dipendenze funzionali da quelle disfunzionali ad esempio non so la dipendenza dalla parola data io la darei funzionale la dipendenza ad esempio da uno stile di vita salutare quindi dalla salute potrebbe essere funzionale ricordiamo però anche sempre che un valore 10 non è mai troppo funzionale perché ci darebbe un'enorme rigidità quindi nel momento in cui abbiamo delle dipendenze funzionali bene nel momento in cui abbiamo le dipendenze disfunzionali sappiamo già su cosa dobbiamo lavorare e soprattutto verso quali dipendenze muoverci attenzione ragazzi tanto per capire e chiudere qui abbiamo parlato di tantissime dipendenze quindi abbiamo compreso che l'indipendenza è un po' una follia un po' un sacro gralle che non si raggiungerà mai io direi che il concetto di base non è non è quanto vogliamo essere indipendenti ma scegliere le dipendenze migliori perché detto tra noi non è che le dipendenze sono sempre pessime la stessa dipendenza da lavoro dipendente lavorare per un'azienda che è nata ieri e che morirà fra due giorni è un lavoro dipendente diverso che lavorare magari per la Ferrero che è una delle aziende a quanto pare che tratta meglio i dipendenti d'Italia allora non è che il lavoro dipendente presso chiunque è brutto puoi scegliere la dipendenza migliore posso arrivare a non essere dipendente da dover lavorare dalle aziende ma tanto sarò dipendente dei mille altri però posso anche scegliere di dipendere da qualcuno che abbia senso dipendere è un po' come il concetto dei branchi è un po' come il concetto dei gregari è un po' come il concetto dei team dei leader cioè se proprio dobbiamo dipendere da qualcuno cerchiamo di dipendere da qualcuno che ci sappia guidare non da qualcuno che ci porta nel baradro se poi noi diventiamo così bravi da saper guidare noi bene ma finché non siamo nessuno dovremo comunque dipendere da qualcuno e da qualcosa allora a questo punto finché non siamo nessuno e abbiamo le dipendenze culturali le dipendenze esperienziali perché non abbiamo esperienze quindi non sappiamo come funziona la vita abbiamo le dipendenze linguistiche perché non sappiamo le lingue non sappiamo non abbiamo esperienze non sappiamo fare niente sappiamo parlare allora a quel punto devi per forza dipendere da qualcuno cerca di dipendere da qualcuno utile per te da qualcuno che ti possa insegnare da qualcuno che ti possa guidare da qualcuno che ti possa fare da modello da mentore piuttosto che diventa dipendente da uno che è peggio di te perché da lì non impari niente allora dipendente per dipendente dipendiamo cioè scegliamo da chi dipendere questo è il fulcro di questa serata vi ho portato un canzone fino adesso con 7.000 dipendenti magari anche a volte noiosi però era per farvi capire che le dipendenze sono tante facciamoci questa benedetta lista e poi leviamoci dalla testa l'idea di diventare indipendenti tanto non lo diventeremo mai ma scegliamoci le dipendenze migliori se sono dipendente da cibo bene scegliamoci il cibo migliore dipendenze per dipendenze invece di sfasciarmi di nutella cercherò qualcosa che mi fa altrettanto soddisfare la voglia di cibo ma che sia più sano se devo dipendere da un lavoro dipendente mi scelgo un'azienda che mi faccia star bene se devo dipendere da uno stato o da delle leggi o da delle istituzioni mi scelgo lo stato dove sto meglio sempre che lo stato non te caccia fuori per il virus capite quindi invece di pensare all'indipendenza fulcro e chiusura di questa serata pensiamo a una dipendenza funzionale pensiamo di cosa vogliamo essere dipendenti di chi vogliamo essere dipendenti di quale luogo vogliamo essere dipendenti di quale istituzione di quale cibo di quale salute di quale persona perché tanto è inutile dire ah voglio essere indipendente completamente ma cazzata però essere dipendenti da persone valide essere dipendenti da luoghi validi essere dipendenti da cibi validi essere dipendenti anche da sesso valido essere dipendenti da qualcosa di più funzionale ci accrescerà la dipendenza non è negativa è parte del nostro essere pensate a un branco il branco non è che c'è un leader e un branco il leader esiste perché dipende dal branco il branco esiste perché dipende dal leader quindi c'è una codipendenza anche il leader non avrebbe il leader è colui che tu lead che guida ma se il leader non ha nessuno da guidare che cazzo il leader è non serve a nulla quindi la dipendenza esiste sempre anche se sei una guida anche se sei un grande anche se sei un re anche se sei un imperatore un imperatore senza un popolo un comune mortale un imperatore come diceva Totò alla fine quando stai su un letto d'ospedale se sei un imperatore se sei un delinquente o se sei un poraccio è uguale arriva il momento in cui c'è quella livella come la chiamava Totò in cui tutti sono uguali quindi la differenza la fanno proprio le dipendenze non le indipendenze se tu fossi indipendente da tutto non saresti nessuno invece sono proprio le dipendenze che fanno di te il vero valore è la dipendenza del branco che fa il valore del leader e il leader dipende dal valore del branco quindi rendiamoci conto di questo scegliamoci le dipendenze migliori scegliamoci da chi dipendere scegliamoci da cosa dipendere scegliamoci da dove dipendere ma nei nostri obiettivi poniamocela la dipendenza come obiettivo quelle funzionali e non facciamocele venire a caso quindi esercizio numero 1 facciamoci la nostra lista delle dipendenze diamo un valore da 1 a 10 dopodiché vediamo quali sono funzionali e quali sono disfunzionali e cerchiamo di creare delle nuove strategie dei nuovi obiettivi in cui cambiamo le dipendenze nella maniera più funzionale possibile se siamo ancora dipendenti dal denaro siamo ancora dipendenti dal lavoro dipendente o siamo ancora dipendenti dall'azienda ok cambiamo la strategia in maniera tale che da qua un x di tempo potremo diminuire la nostra dipendenza e farla diventare più funzionale quindi impareremo a delegare troveremo le persone giuste eccetera se abbiamo un lavoro dipendente cerchiamo di spostarci verso un lavoro migliore che ci possa dare di più dove possiamo esprimerci meglio dove possiamo imparare di più perché ci sono dei lavori che non servono un cazzo e dei lavori invece dove impari e quindi accresci dove vieni pagato per imparare cioè dove tu si sei costretto a fare qualcosa però alla fine hai qualche qualità in più quindi togliamoci questo concetto di indipendenza e facciamo entrare nella nostra testa un concetto di dipendenza funzionale scegliamo le nostre dipendenze funzionali e cominciamo ad andarsene a cercare a raggiungere e a a inseguire aggiungetemi nei commenti le dipendenze che voi avete trovato che avete scoperto che avete su di voi che non abbiamo detto in questa lista così magari le aggiungiamo o aiutiamo gli altri che verranno dopo di voi ad aggiungerli nella loro lista e mi raccomando risettate i vostri obiettivi mentalmente a dipendere da qualcosa di funzionale e non dipendere più da ciò che vi limita nella vostra crescita e nella vostra felicità di vita